Musica Musica Ben ritrovati da tempo presente la trasmissione di attualità ed etica in onda su Telepace il venerdì alle 10.30 in diretta e in replica. Questa sera alle 23.30. Oggi parleremo davvero di tanti argomenti, parleremo di scuole paritarie, parleremo della gioia dell'essere cristiani, parleremo di turismo solidale e soprattutto parleremo della laudato sì. Perché questa è la settimana della laudato sì. Lo faremo anche con il vescovo di Assisi, Monsignor Sorrentino, per approfondire le tematiche dei nuovi stili di vita. Ma iniziamo subito con le scuole paritarie perché leggiamo da avvenire un articolo che ci dice dopo la protesta arrivano 150 milioni. Allora abbiamo in collegamento con noi Virginia Caladice, presidente nazionale FIDAE che raggruppa in gran parte le scuole cattoliche presenti nel paese, le scuole pubbliche che hanno una funzione pubblica ma paritarie, cioè non statali. Allora, benvenuta. Vorremmo sapere, bastano questi soldi del decreto rilancio, ne servivano di più? Che cosa pensa? Grazie, buongiorno a tutti. La FIDAE è la realtà che raccoglie dal 1945, la prima associazione in Italia, le scuole cattoliche. Ha fatto riferimento alla legge della paritaria. Nel marzo scorso abbiamo celebrato appunto 20 anni, una legge che dopo 20 anni in Italia non è ancora completa, proprio perché ancora non c'è un riconoscimento anche economico. Dal Curio Italia del DL di marzo, dove le nostre realtà, scuole paritarie, erano assenti. Noi insieme ad altre associazioni abbiamo presentato emendamenti, lanciato a comunicati stampa. Lei mi dice questi risultati raggiunti come ci ritrovano. Possiamo dire che con il decreto rilancio si è colmato un vuoto riscontrato negli interventi precedenti, dove c'era un'assenza completa delle scuole paritarie. Abbiamo avuto appunto, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e i servizi educativi, 65 milioni e 70 milioni di euro per le scuole paritarie, primarie e secondarie. Sicuramente è un passo avanti dall'assenza precedente, però siamo ancora lontani da un vero riconoscimento di un servizio pubblico, perché la legge della parità ha stabilito che in Italia esiste un servizio pubblico fatto di scuola statale e scuola paritaria. Noi attualmente chiediamo al Parlamento che si colmi ancora di più questa vistosa disparità, soprattutto facendo un incremento del fondo straordinario per coprire i costi fissi di questa forzata chiusura, tutt'ora in corso, che si preveda, abbiamo chiesto dal primo momento, soprattutto la detraibilità integrale delle reste corrisposte dalle famiglie e che siano previste risorse economiche adeguate per una ripresa dell'attività del prossimo anno scolastico che vedrà sicuramente per le scuole tante novità da attuare. Allora, leggo che appunto alla secondaria sono stati dati, alla secondaria paritaria, 70 milioni, alle scuole dell'infanzia 80 milioni per 150 milioni totali. Ricordiamo che stiamo parlando di 866 mila alunni, sono tantissimi, 100 mila lavoratori, oltre 13 mila scuole paritarie. Quello che le chiedo, le scuole paritarie sappiamo che danno gli stipendi ai dipendenti in base alle rette che ci sono, quindi i genitori devono pagare queste scuole pur fruendo di un servizio pubblico. Questo servizio quanto costerebbe allo Stato se dovessero chiudere ipoteticamente? Beh, sono cifre importanti, però partiamo dai numeri che lei ha ben evidenziato. Ecco, lo Stato potrebbe essere pronti ad accogliere circa 900 mila alunni delle nostre scuole, però noi vogliamo scongiurare questo discorso della chiusura, perché dietro c'è una storia molto importante, storia secolare che ha dato, prima ancora che lo Stato istituisse delle scuole, ha offerto un servizio di istruzione e formazione. Pertanto non possiamo oggi prenderci questa responsabilità di dire che la scuola cattolica non può riaprire i battenti. Noi non ci crediamo in questo e non vogliamo crederci, pertanto ci stiamo impegnando per guardare al futuro. Sì, le rette dei genitori sono parte integrante di quel bilancio che le scuole paritarie hanno. Abbiamo un contributo ordinario dallo Stato, ma che è poco cosa rispetto ai costi effettivi, come lei ha ben ricordato, solo 160 mila docenti, pertanto immaginiamo quanto personale e anche tutte le realtà, pulizie, mense e quant'altro, che girano intorno alle nostre scuole. Eppure c'è anche chi, alcune forze politiche a livello locale, hanno protestato contro i contributi dati alle scuole paritari dicendo che questi vengono levati alle risorse da dare alle scuole statali. La ringrazio perché è una cosa che sto ripetendo spesso. Io non parlo di scuole, parlo di chi abita le scuole. Sono studenti, sono bambini, bambine, ragazzi, giovani, sono genitori, sono docenti italiani di questo Stato. In una situazione emergenziale non si può discriminare. Siamo tutti cittadini italiani, anche i genitori delle nostre scuole hanno avuto dei problemi relativamente al lavoro. I nostri docenti hanno dovuto ricorrere a mille spedienti pur di continuare ad incontrare i loro alunni, i loro studenti attraverso una modalità diversa. E c'è stata una passione educativa enorme che ha garantito il continuare a guardare negli occhi i nostri ragazzi, i nostri bambini. Perché noi vogliamo fare scuola. E se mi permette, in questo momento vorrei fare un appello. Un appello alla Ministra Zolina, da sempre, ancora prima del Covid-19, abbiamo chiesto di poterla incontrare. E come lei ben indicava, sono 13.000 le scuole paritarie. Quasi il 25% delle scuole. Pertanto non siamo irrilevanti come numeri. E ripeto, le nostre scuole sono abitate da cittadini italiani. E quando le incontrerete? E quando incontrerete la Ministra? Una situazione emergenziale non è il caso di discriminare. Quando riuscirete a incontrare la Ministra? L'appello lo stiamo facendo continuamente. Gli inviti sono, stiamo attendendo solo una risposta dall'amministra Zolina. Per questo ho chiesto se potevo lanciare anche attraverso il vostro canale questo appello che noi stiamo aspettando. Stiamo aspettando, però non rimaniamo fermi. Perché anche se non siamo stati mai citati nei vari messaggi che sono stati fatti finora al mondo della scuola, la scuola paritaria cattolica si è impegnato moltissimo. Nei prossimi giorni sarà pubblicato anche un dossier che racconta quanto è stato fatto nelle scuole paritarie, che contributo è stato dato in questa didattica a distanza, in questa emergenza Covid-19. Grazie, Virginia Caladic, per essere stata con noi. E allora speriamo che avvenga presto questo incontro con la Ministra dell'Istruzione a Zolina. Grazie. Grazie. Grazie.